Il centro-destra vola in Piemonte, fra poco l'analisi del voto del cosiddetto controsenso italiano. Dopo l'elezione di tanti sindaci nel centro-sinistra, ora ci si ritrova nell'ultima tornata elettorale un'Italia dipinta di azzurro. La cronaca a Tortona, indagini a tutto campo sulla morte di un uomo di 71 anni deceduto nell'appartamento di una prostituta. Covid risalgono i contagi, all'Istituto di ricerca di Candiolo uno studio, un test rapido per misurare gli anticorpi. E' pronto anche dalla metà di ottobre la possibilità di far vaccinare i più piccoli. E' partito ieri ad Alessandria il concorso internazionale di chitarra classica Michele Pittaluga. Finale, il gran finale, sabato prossimo, primo ottobre. Ben ritrovati con la nostra informazione dal Piemonte e dalla Liguria. In primo piano la politica, come avete sentito dai nostri titoli, ci interroghiamo sul controsenso tutto italiano. Il nostro è un paese con moltissimi sindaci di sinistra, eletti neanche troppo tempo fa, ma alle elezioni politiche dell'altro ieri. Quegli stessi elettori dei sindaci di sinistra hanno consegnato l'Italia a Giorgia Meloni, quindi alla destra. E allora proviamo a vedere se una risposta c'è. De De Vinci. Certo che qualcosa di misterioso da capire nel funzionamento del pensiero politico degli italiani c'è. L'enorme differenza dimostrata in queste ultime tornate elettorali lo dimostra. Nelle ultime amministrative, molti candidati a sindaco, espressi dalla sinistra, hanno vinto le elezioni. Pochi mesi dopo, al momento delle politiche che decidono il destino non di una città ma dell'intero paese, allora stravince la destra. Anche nelle stesse città dove poco prima aveva prevalso un candidato del centrosinistra. Lo dimostra anche la città di Alessandria. Guardando a tre mesi fa la vittoria di Giorgio Bonante, candidato del fronte progressista, certo non lasciava presagire una vittoria di queste dimensioni del partito posizionato più a destra di tutta la coalizione, ovvero Fratelli d'Italia. Una delle spiegazioni potrebbe essere che non era post-ideologica più che una filosofia o una tendenza politica. Alla fine la capacità comunicativa, la posizione coraggiosa, chiara e netta che fa scegliere agli italiani gli uomini o le donne che devono amministrarli. In fondo la coerenza, la chiarezza della proposta, la capacità di farsi comprendere, di andare incontro ai problemi reali della gente, a prescindere dalle teorie, le mode o anche vincendo le pressioni che arrivano dagli altri paesi, fa sì che nell'intimità della cabina elettorale il cittadino si senta veramente libero di scegliere quello che vuole. Forse il ruolo del sindaco, come quello del presidente della regione, risponde all'esigenza di poter votare un leader preciso e questo può voler dire che in fondo gli italiani vogliono un equivalente anche al presidente del Consiglio o dello Stato. Queste ultime elezioni lo dimostrano. Forse è il momento di riconoscere che gli italiani sono abbastanza maturi per scegliere chi deve comandare. Poi dopo cinque anni si vedrà. La cronaca aveva da poco incontrato una prostituta in un appartamento del Tortonese quando si è sentito male ed è morto. È successo nei giorni scorsi ad un uomo di 71 anni residente in zona. La donna di origini cinesi ha dato l'allarme chiamando i sanitari del 118 ma a nulla sono valsi i tentativi di rianimarlo. L'uomo è morto per un infarto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che ora indagano per capire se il luogo dove i due si sono incontrati sia una casa di appuntamenti gestita da un'organizzazione. Oggi pomeriggio ad Alessandria nella chiesa di San Rocco. Alle 15 l'ultimo saluto al capo della curva nord dei grigi Mario Dicianni. Al termine della funzione gli sarà dedicato un tributo particolare. La bara sarà portata allo stadio Moccagatta sul campo nell'area di rigore sotto la nord. Sarà appoggiata su quel dischetto da cui il giocatore Rubin aveva battuto il calcio di rigore che fece promuovere la squadra in serie B. A salutare capo Mario ci sarà anche la squadra dell'Alessandria Calcio compresi i dirigenti e staff e sicuramente molti colleghi del tifo alessandrino. Anche il presidente dell'Alessandria Calcio Luca Di Masi ha voluto inviare un saluto ufficiale a Mario Dicianni. Ha scritto ciao grande Mario mi mancherai, mancherai a tante persone che ti hanno voluto bene. Mi mancheranno le nostre chiacchierate in sede con il tuo entusiasmo, la tua voglia di fare, il tuo immenso amore per i grigi. Mi mancheranno i nostri abbracci dopo una vittoria e anche dopo le sconfitte. Sei sempre stato un punto di riferimento per tanti e per me in particolare. Mi sei sempre stato vicino e di questo te ne sarò riconoscente tutta la vita. Ti ho voluto bene, te ne voglio e te ne vorrò sempre. Grazie ad os, grande capo Mario, con immenso affetto. Altre notizie di cronaca. La questura di Alessandria ha concluso le indagini relative all'organizzazione del rave party dello scorso ferragosto nella notte fra il 14 e il 15 di agosto a Predosa, nell'Ovadese, che ha visto la partecipazione di oltre un migliaio di persone. Le indagini hanno identificato come organizzatori tre giovani delle province di Savona e di Imperia e oltre 240 partecipanti che hanno collaborato attivamente. Tutti sono stati denunciati in concorso per invasione arbitraria di terreni altrui e a 64 persone è stato dato il foglio di via obbligatorio col divieto di ritorno nel comune di Predosa per tre anni. Ultima pagina, in arrivo un test frutto di uno studio di ricercatori dell'Istituto di Candiolo che misura quanti corpi abbiamo per difenderci dal Covid. La ricerca potrebbe fornire informazioni preziose per lo sviluppo di nuovi vaccini contro il virus che negli ultimi giorni ha fatto di nuovo un balzo in avanti. Sentiamo. Contagi Covid in risalita, con un virus che circola nonostante i dati in calo nelle terapie intensive. Certo è che si sta attraversando una fase nuova, con una campagna vaccinale per la quarta dose che non decolla e con una serie di modifiche alle norme che potrebbero creare un cortocircuito. È infatti dietro l'angolo, dal primo ottobre, la possibilità di poter entrare in ospedale senza la mascherina, anche se teoricamente bisognerà ancora presentare il Green Pass. Di fatto, pur non chiedendolo ormai quasi più nessuno, il certificato verde è ancora previsto per chi si reca nelle strutture sanitarie. Così come è altrettanto imminente la caduta dell'obbligo di protezioni sui mezzi di trasporto. Ora, se il governo uscente potrebbe decidere di prorogare la mascherina in ospedali, ambulatori e RSA, non è dato sapere ad oggi cosa potrebbe invece decidere chi andrà ad insediarsi a Palazzo Chigi. Intanto il monitoraggio del virus da parte della comunità scientifica è costante e il Ministero della Salute raccomanda la quarta dose per tutti gli over 12 su richiesta, mentre dalla metà di ottobre l'Agenzia Europea del Farmaco EMA ha annunciato di essere pronta a dare il via libera al vaccino anti-covid formato baby, quello per immunizzare i più piccoli dai sei mesi ai cinque anni. I dati di efficacia e di sicurezza sono più che soddisfacenti, spiegano gli esperti, ma quel che più conta è la capacità di impedire i ricoveri o, peggio ancora, i decessi. In questo senso l'efficacia superiore al 90% è sovrapponibile a quelli degli adulti. Intanto i ricercatori dell'Istituto di ricerca piemontese di Candiolo hanno messo a punto, insieme all'Italian Institute for Genomic Medicine, un test per verificare se il sistema immunitario è ancora armato contro il Covid-19. Si tratta di un rapido prelievo del sangue, costo circa 150 euro, in grado di determinare il livello e la durata dell'immunità al virus SARS-CoV-2. Lo studio, pubblicato sulla rivista scientifica Nature, è stato condotto su oltre 400 soggetti sottoposti a vaccino mRNA-Pfizer e potrebbe avere un impatto importante sulla futura gestione della pandemia, perché i risultati di questa ricerca potrebbero fornire informazioni preziose per lo sviluppo di nuovi vaccini anti-Covid. Si attende ora all'ok del Ministero della Salute per poter utilizzare questo test negli ospedali pubblici. Ospedali con sempre meno medici e l'ASL di Alessandria potrebbe rimpinguare l'organico trasferendo personale dalle ambulanze, un'eventualità non gradita ai sindaci del territorio. Sentiamo di più nel servizio di Fabrizio Mattana. Da dicembre le ambulanze potrebbero non avere più medici a bordo. Lo si evince da un documento emesso dall'azienda sanitaria ospedaliera di Alessandria Asti, rivolto ai responsabili del 118. La causa sarebbe la carenza di personale sanitario negli ospedali del territorio. Per ovviare alla mancanza di medici, si sottolinea nel documento, è necessario demedicalizzare i mezzi di soccorso avanzato. Sarebbero queste le linee guide adottate in attesa di una riorganizzazione del 118. Sulle ambulanze i soccorsi sarebbero quindi affidati al personale infermieristico. Le reazioni alle nuove disposizioni non si sono fatte attendere, soprattutto negli ospedali appartenenti ad aree disagiate, come quelli di Ovada e di Acquiterme. Infatti è stato il sindaco della città termale, Danilo Rapetti, a farsi sentire immediatamente, richiedendo spiegazioni ai vertici ASO. Una decisione simile, ha spiegato il primo cittadino, metterebbe a rischio la salute degli abitanti del territorio. Rapetti è pronto a rivolgersi alle autorità sanitarie regionali e magari anche alla prefettura e alla procura della Repubblica. Anche l'ex sindaco Lorenzo Lucchini ritiene di dover fare fronte comune perché tale decisione venga rivista, sottolineando di aver lanciato l'allarme già da tempo senza essere stato ascoltato. Ci confronteremo con le istituzioni, ha continuato Rapetti, come già stiamo facendo nell'ambito del gruppo di lavoro finalizzato alla discussione e al confronto in merito alle misure di potenziamento dell'ospedale di Acquiterme, un gruppo voluto dalla direzione dell'ASL Alessandria per individuare percorsi utili a consolidare il presidio acquese. Qui non si tratta così di parole al vento, ma veramente di un'intesa forte che c'è, anche a livello personale col direttore generale. Acqui ha una posizione centrale per la sanità della nostra provincia perché siamo distanti dai grandi centri e il nostro territorio insiste su paesi che magari distano anche mezz'ora di auto da Acqui e di conseguenza quasi un'ora di auto da Alessandria. La centralità del nostro ospedale viene quindi riconosciuta finalmente e tutto ciò che sarà possibile definire e concordare a seguito di questo tavolo sarà poi attuato di concerto con l'ASL. Tutto ciò per cui andranno fatte richieste specifiche alla regione sarà oggetto di interlocuzioni dirette con l'assessore Riccardi e comunque con l'assessorato alla sanità e con gli altri esponenti regionali del nostro territorio. Cattive notizie per il caro vita italiano, aumentato ancora da quest'estate con numeri che hanno superato la media europea, in particolare parliamo di gas e luce. Piemonte e Liguria però rimangono ancora nella media più contenuta. Ce ne parla Beatrice Augustaro. Se si pensava che i numeri delle bollette avessero ormai raggiunto le stelle, ci hanno pensato quelle di agosto a far ricadere le speranze nelle case degli italiani. Oggi il caro vita ha raggiunto il 76,4% nel paese rispetto al 51,9% dell'area dell'euro, con un aumento del 17,3% dopo il mese di luglio, quando i prezzi potevano essere ancora ragionevoli. In Europa solo due stati hanno superato il tricolore, i Paesi Bassi con rincale del 151,4% e l'Estonia con un più 145,1%. Motivo principale di questo aumento, in particolare per gas e luce, è il mix produttivo, lacerante per il consumo italiano, a cui talmente manca ancora un piano energetico compatibile ai problemi odierni. La guerra tra Russia e Ucraina è tanto per cominciare. E se ci chiediamo perché in Francia e in Germania gli aumenti sono al di sotto del 50%, bisogna mettere a luce due cose molto importanti che l'Italia negli ultimi anni ha sempre bocciato. Lo Stato francese ha il nucleare, che permette un costo ridotto dei prezzi, di cui il nostro Paese dispone di quattro centrali inutilizzate per vedere proteste da parte degli ambientalisti. La Germania invece ha scelto il carbone, presente anche da noi, ma in maniera minore. Non è una sorpresa dunque che queste due nazioni non hanno risentito così eccessivamente il peso di una bolletta salata come quella italiana. Le regioni con più tasse sono il Trentino Alto Adige, l'Umbria, l'Abruzzo, la Toscana, le Marche e il Molise, dove la media si aggira intorno all'85%. Numeri più contenuti per il Piemonte e la Liguria, con un più 68,6% e un più 63,8%. Una possibile soluzione per puntare al risparmio sarebbe il recupero delle energie rinnovabili, ma la siccità estiva ha ridotto la produzione idrica di elettricità e reso più difficoltoso l'affreddamento delle centrali termiche. Parlavamo di politiche in apertura e allora vi aggiorniamo con le varie ripartizioni che stanno uscendo man mano in base alle elezioni e agli eletti. In Liguria quattro seggi a Fratelli d'Italia, tre a Lega e a Partito Democratico, due al Movimento 5 Stelle, uno al centro-sinistra, a Forza Italia e a noi moderati. Questa appunto la ripartizione dei seggi all'esito del voto di domenica scorsa. In tutto sono 15 i parlamentari che la Liguria doveva esprimere, 5 senatori e 10 deputati. La pagina degli spettacoli è partito ieri ad Alessandria il concorso internazionale di chitarra classica Michele Pittaluga, una settimana di musica che si concluderà il primo di ottobre. Cristiana Zanetto. Una delle manifestazioni internazionali più importanti di Alessandria è il concorso di chitarra classica Michele Pittaluga che ha preso il via ieri con la presentazione in comune poi a Palazzo Vetus. Per una settimana fino al primo ottobre la città diventa capitale mondiale di uno strimento fra i più diffusi come la chitarra. Molti gli iscritti di quest'anno che come sempre provengono da ogni parte del mondo e in particolare sono presenti in gran numero i coreani. Ieri sono stati presentati anche i giurati del premio. È una giuria molto importante perché è una giuria internazionale, abbiamo degli elementi che arrivano da Israele, dal Messico, dall'Argentina, c'è un italiano, c'è uno spagnolo e un belga. I primi ad esibirsi ieri sono stati un tailandese, un giapponese ed una polacca. Oggi è la volta di altri nove concorrenti. Anche due russi tra i partecipanti al concorso. Ieri sera a Palazzo Vetus si sono esibiti il maestro Perera e con danza e nacchere la sua compagna Marina Razumoskaya. Vorrei spiegare che le performer delle nacchere sono delle musiciste come tutti gli altri, tanto è vero che le nacchere hanno anche delle accordature oppure dei timbri diversi le une dalle altre. Per noi della Fondazione Cassa degli Spari di Alessandro è un onore ospitare questo evento qui nel Palazzo Vetus e speriamo che ci siano altre occasioni di questo tipo perché sono veramente di altissimo livello. Siamo alla pagina sportiva, campioni da tutto il mondo hanno partecipato a Novi Ligure ad un appuntamento tanto atteso dagli appassionati di badminton, quello con il Grand Prix Boccardo. Ce ne parlerà fra poco nella pagina sportiva il nostro Fabrizio Mattana, quindi tutti i particolari su questo evento di rilievo a Novi Ligure. Subito dopo di noi le previsioni del tempo. Vi ricordo come sempre che dopo il nostro telegiornale, in diretta a partire dalle 13, il TG 7 Sport su Nazionale, nell'edizione di oggi parleremo della nazionale italiana che si qualifica alla Final Four di National League e della situazione per quanto riguarda il contesto calcistico di Napoli, Milan, Inter e Juventus in previsione del rientro in campionato. Quindi tra poco appuntamento sportivo, grazie per averci seguito, ricordiamo sempre le previsioni del tempo e noi torniamo più tardi con l'edizione serale del telegiornale. Arrivederci. L'autunno ha visto il ritorno del grande badminton a Novi Ligure. Diversi azzurri non impegnati nei tornei nazionali, campioni d'Italia, top ten delle varie classifiche sono scesi al Pala Barbagelata e alla Palestra Rodari nell'ultimo fine settimana di settembre. Enesimo impegno della società Boccandoa che grazie agli sforzi dei dirigenti e volontari ha organizzato per l'undicesima volta il suo Grand Prix. Tre in novese medaglia. Tommaso Trezza nel Mistral del 15 insieme a Deja e Dairi che vengono bloccati in semifinale dalla coppia mista anche come club Daniele Segato del Chiari e l'aria fornaciare dell'Alba Shattery. Agente bronzo per Manuel Scafuri, primo metallo nel doppio segno contro i subbi favoriti. Il bresciano Nicolo Volpi e l'allenatore e giocatore della sua società, l'indiano Sanyam Shkuka, che solamente qualche anno fa era tra i primi e 50 a livello mondiale. Dopo due set ad occhiali, 16-21-21-16, nel terzo Scafuri assieme al tedesco Tom Scholz hanno un cedimento e si devono arrendere, realizzando nell'ultima frazione di gioco solamente 5 punti. Terzo posto invece nel Mistral Segno. A bloccare lui e la lariana Alice Pelizzari, le teste di serie numero 1 al nazionale Luca Zuo e la numero 2 del Rekking nazionale della specialità Anna-Sophie de Marche. Anche in questo caso l'incontro all'epilogo al terzo gioco, dopo 42 minuti di scambi velocissimi. Eroi di giornata Amanazir, che dopo aver conquistato l'oro nel doppio Under-13 battendo Gabriel Candotti e Felix Saz, insieme all'altro attesino Adrian Telfer, batte quest'ultimo nella finale del singolare, sempre della stessa fascia d'età. Dopo il successo che premia il lavoro della società, la ricerca sempre di atleti che mantengono alto a livello nazionale il nome dell'abboccado badminton nuovi. Gli organizzatori sottolineano il senso civico e ecologico che hanno dimostrato i partecipanti del torniero e tutti gli spettatori, si parla di qualche centinaio di persone sulle tribune. Alla fine della manifestazione queste si rivelavano prive dei classici ricordi che la massa, chiamiamola eufemisticamente indifferente, lascia alle sue spalle dopo ogni evento, che sia un concerto, una manifestazione o un corteo. I dirigenti e volontari del boccardo nuovi hanno sensibilizzato tutti e grazie alle appositi contenitori distribuiti nei due impianti hanno tenuto quasi il 90% di differenziata. Infatti, per dare un dato, non è stato sufficiente il contenitore da 1100 litri della plastica a testimoniare la quantità del materiale riciclabile. Vi ritrovate ad un nuovo appuntamento con Trebi Meteo, una situazione meteo abbastanza tranquilla nella giornata di mercoledì sulle regioni settentrionali. Il tempo sarà in prevalenza stabile assolato, fatto salvo per nubi innocue di passaggio a inizio giornata ma di poco conto non daranno infatti luogo a conseguenti fenomeni, solo qualcosina atteso limitatamente ai rilievi alpini centro-occidentali. Uno sguardo più in dettaglio a cosa ci attenderà sul Piemonte. Mercoledì, come anticipavo, tempo stabile assolato, fatto salvo per disturbi limitatamente ai rilievi alpini. Temperature massime un po' contenute, in giornata non supereremo i 20-22 gradi, clima frizzante nella notte all'alba. Nella giornata di giovedì il sole sarà prevalente al mattino, ma l'avvio di una nuova perturbazione favorirà un peggioramento nel corso del pomeriggio sera. Annuvolamenti compatti daranno luogo a nuove precipitazioni, dapprima sui settori montuosi in serata anche sulle zone di pianura. Temperature massime saranno in contenuta diminuzione e clima un po' più fresco anche nel pomeriggio.